Con il Presidente della Camera di Commercio di Arezzo Siena, Massimo Guasconi, facciamo un bilancio, tracciamo un bilancio di quello che è stato questo 2022 per le attività svolte dalla Camera di Commercio di Arezzo Siena. Ma il 2022 è stato un anno per l'economia in particolare, molto particolare perché era l'anno di uscita dalla pandemia, quindi fin dall'inizio avevamo avuto una conferma che questa crescita economica era molto forte, consolidata, i nostri sistemi economici sono scoperti molto competitivi anche rispetto agli altri paesi, i nostri competitori naturali, anche europei. È ovvio che è stata segnata da una situazione imprevista, quella legata inizialmente già da un aumento forte delle materie prime, dei costi energetici e ovviamente dalla guerra che ovviamente si è così purtroppo defragata nel centro dell'Europa, che ha ulteriormente aggravato queste situazioni, quindi materie prime e costi energetici hanno condizionato la vita delle nostre imprese, la stanno condizionando pesantemente. Sul territorio retino, appunto dal punto di vista economico, sono usciti da poco i dati relativi all'export, che cosa è emerso in particolare? Beh, è emerso e viene confermato questa grande ripresa del dopo Covid, perché pur in quelle difficoltà che ricordavo prima, le nostre imprese ma tutta la nostra economia ha dato grandi risposte, perché abbiamo visto che una crescita fortissima nelle esportazioni c'è stata, ovviamente condizionata nel caso di Arezzo dall'export di metalli preziosi, che ovviamente come sempre sono un po' quelli che fanno la parte del leone, anche in negativo naturalmente, perché come sappiamo quando aumenta il prezzo dell'oro, diminuiscono un po' le... cioè complessivamente aumentano le esportazioni naturalmente perché i valori aumentano, ma diminuisce ad esempio l'attrattività del gioiello che ovviamente soffre di questo costo della materia prima principale. Quindi però abbiamo avuto comunque una crescita, nei primi nove mesi siamo riusciti comunque a mantenere un segno positivo, crescita del gioiello addirittura a due cifre, mercati tradizionali che vengono consolidati, a cominciare dagli Stati Uniti ma anche nel mondo arabo, abbiamo esportazioni importanti anche in Turchia, comunque nei paesi che si consolidano e che dimostrano di essere i nostri sbocchi naturali, e sbocchi naturali per le nostre imprese, un consolidamento anche della meccanica, un altro settore importantissimo del nostro tessuto economico, una conferma anche con alti e bassi del mondo del Made in Italy, quindi della moda, pelletteria, che ovviamente ha sofferto anche forse più di altri un po' di queste oscillazioni, ma che si conferma un grande player. Abbiamo poi, per quanto riguarda la nostra economia più domestica, un momento particolarmente felice anche della presenza turistica che si ha in estate, ma lo vediamo anche adesso in occasione delle festività natalizie, addirittura insomma abbiamo presenze che dovrebbero superare il milione, che ovviamente premia una politica che è stata fatta di accoglienza di tutto anche il nostro sistema commerciale e dei servizi e quindi dell'accoglienza. Ci sono anche settori importanti come quello legato alle costruzioni che in qualche modo soffrono di questa situazione legata al super bonus e alla cessione dei crediti, ma che comunque hanno dato anche qui numeri davvero importanti alla nostra economia locale. C'è da dire questo, per il 2023, pur in questa situazione, ci troveremo di fronte comunque a imprese che si fatturano, riescono ad essere competitive, come dicevo, sui mercati, ma vedono ridurre fortemente i propri margini, che ovviamente avrebbero permesso di investire ulteriormente e di essere al passo con i tempi. Quindi l'auspicio è che davvero si riesca a avere un 2023, innanzitutto con una possibile tregua sul fronte bellico, quindi che la guerra riesca davvero a fermarsi in qualche modo e permetta anche poi di conseguenza il sistema economico, quindi non solo sotto l'aspetto umanitario e sociale, che è ovviamente l'aspetto che ospichiamo di più, che si risolva, ma anche sotto l'aspetto economico avrebbe un grandissimo beneficio e permetterebbe, come dicevo di nuovo, alle imprese di poter ragionare su una situazione anche di investimenti che dovrebbero in qualche modo essere confermati e se possibile aumentati, perché ripeto, oggi le imprese hanno visto ridursi in modo molto drastico in margine e che ovviamente poi se lo combiniamo con purtroppo l'aumento del costo del denaro, l'inflazione, diventa davvero difficile ipotizzare per l'impresa un 2023 che sia semplice e essere semplicemente affrontato con degli investimenti che davvero sono difficili, difficili da poter programmare. Con Marco Randellini, segretario generale della Camera di Commercio di Arezzo Siena, quali sono un po' i progetti che sono stati portati avanti durante questo 2022 dalla Camera di Commercio di Arezzo Siena? Sono tanti interessanti, importanti. Sì, è stato un anno pieno di attività, di iniziative con Camera di Commercio di Arezzo Siena impegnata ancora una volta sul fronte della transizione digitale e direi quest'anno anche caratterizzata con la transizione ecologica ed energetica sulla scorta anche del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. Abbiamo fatto tante iniziative anche di formazione, ma soprattutto interventi economici con contributi diretti al mondo economico e alle imprese del territorio di Arezzo Siena che hanno interessato anche progetti in collaborazione con le associazioni di categoria che hanno toccato vari aspetti dal punto di vista della promozione, dal punto di vista dell'innovazione dei modelli, dei processi produttivi e direi anche con un occhio di attenzione particolare alla Green Economy. Abbiamo fatto tanta formazione anche sulle novità che sono importanti anche in chiave di economia circolare e mi piace ricordare il progetto Arezzo 2030 che ha fotografato un po' la situazione del nostro territorio non solo in chiave economica ma anche sociale, ambientale e con una bella collaborazione che abbiamo con l'Università di Siena abbiamo fornito dati molto interessanti anche per un'agenda locale che potrebbe essere portata avanti con gli stakeholders locali. Dal punto di vista del tessuto locale qual è la situazione anche dal punto di vista occupazionale e dal punto di vista del lavoro? Sì, Camera di Commercio di Arezzo Siena è particolarmente interessata agli aspetti ovviamente che riguardano l'internazionalizzazione delle nostre imprese perché l'assist fondamentale, il nostro valore aggiunto oltre che ovviamente sul commercio, sui servizi, sul turismo è caratterizzato da questa manifattura importante su queste due specializzazioni produttive oro e moda che sono andate molto bene grazie proprio anche ai mercati internazionali. L'export ha tenuto e direi che anche durante la pandemia abbiamo già recuperato ampiamente la perdita del 2020 soprattutto nell'ambito dell'oreficeria, gioielleria in particolare con un più 73% di export nel 2021 e per quanto riguarda quest'anno stiamo chiudendo un terzo trimestre con una crescita di più 25% sull'anno precedente il che vuol dire che stiamo consolidando questa presenza del resto sui mercati esteri, del resto anche le classifiche del sole 24 ore ci attestano che siamo la prima provincia in Italia per incidenza di export sul nostro valore aggiunto e questo vuol dire che è un settore fortemente trainante e un contributo è sicuramente stato dato anche dalla Camera di Commercio in termini di formazione, di scambi, di assistenza anche alle imprese per la partecipazione a fiere internazionali e anche direi di progetti specifici come ad esempio quello sul settore orafo di un marchio collettivo Vivi Oro che mi piace ricordare anche perché il 2022 ha visto su questo marchio convergere anche tutto il settore della distribuzione dell'oreficeria che direi è un'innovazione dal punto di vista anche della strategia di marketing e della strategia di commercio nell'ambito di questo settore A proposito di progetti, quali sono le idee in cantiere anche per il prossimo anno per il 2023? Che cosa ci aspetta? Che cosa ha in mente la Camera di Commercio? Abbiamo sicuramente intenzione di proseguire sulle nostre linee prioritarie che sono anche in questo caso digitalizzazione e transizione ecologica ed energetica delle nostre imprese ma anche attenzione ovviamente all'internazionalizzazione con una particolare cura anche del rilancio dei settori che sono collegati al mercato fieristico e in particolar modo anche il rilancio degli eventi della nostra fiera che per noi sono fondamentali e ovviamente i settori del turismo collaborazione con enti e istituzioni del territorio, gli ambiti turistici le fondazioni che in questo caso a partire dalla fondazione Arezzo in Tour ci ha sicuramente dato grande soddisfazione anche per i successi ottenuti nei vari eventi di rilancio del nostro marketing territoriale e poi ovviamente il mondo della scuola, il mondo del lavoro con un'attenzione particolare anche ad un progetto che vogliamo portare avanti di certificazione delle competenze insieme agli istituti scolastici del nostro territorio sui settori per ora della moda, della meccatronica e del turismo. Anche nell'Agenda 2030 si parla molto di uguaglianza di genere e parliamo anche di quello che è il lavoro svolto dalla Camera di Commercio di Rezzo Siena anche dal punto di vista dell'occupazione dell'imprenditoria femminile. Sì, è un tema che ci sta particolarmente a cuore, è molto attivo il Comitato dell'imprenditoria femminile preseduto da Sonia Dallaragione che è in questo settore del sostegno all'imprenditoria femminile molto attivo con progetti che prevedono bandi, iniziative anche di tipo comunitario e soprattutto anche a livello di sostegno all'innovazione di prodotto e di processo nell'ambito dell'imprenditoria femminile. Mi piace anche ricordare le iniziative di formazione che proseguiranno anche nel 2023 sicuramente nell'ambito della transizione energetica, dell'economia circolare ma anche della certificazione della parità di genere, questo bel progetto su cui è impegnato anche il sistema camerale che sicuramente sarà oggetto dell'attività del Comitato dell'imprenditoria femminile. Grazie a tutti!